Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sulle Alpi, appennino settentrionale e zone interne del centro, piaciuto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata è notata ancora fenomeni sulle Alpi con possibili sconfinamenti su pianure di Veneto e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature minime e massime stazionarie e un generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.